Benvenuti e bentrovati da Tommaso Franchi qui su 264Zoom, il programma di approfondimento di Cusano Italia TV dedicato alle varie tematiche che coinvolgono il nostro pianeta e il nostro universo. Oggi resteremo nei confini nazionali parlando della vincitrice dello scudetto 2019-2020, l'Inter di Antonio Conte che raggiunge quota 19 e a meno uno, pensate, dalla seconda stelletta. Antonio Conte, leader massimo dei nerazzurri che probabilmente anche l'anno prossimo tenterà di trascinare quelle che sono le vicende del capoluogo meneghino all'interno dell'universo della città di Milano e all'interno del nostro paese. Allora chi meglio di uno youtuber che vanta ottimi numeri sui social e che ha fatto dell'Inter ma soprattutto dell'obiettività sportiva uno stile di vita non che comunicativo. Allora io do subito il benvenuto al mio ospite di oggi, un caro saluto a Biagio Privitera alias Biapri. Ciao Biagio! Ciao Tommaso, buongiorno, un piacere essere qui. Allora Biagio, io che ringrazio te, ci conosciamo da un po' perché insieme abbiamo vissuto varie interviste e vari aneddoti, quindi chi meglio di te Biagio può approfondire la tematica del diciannovesimo Scudetto Nerazzurro. Allora parto subito chiedendoti quando hai capito, seppur so che c'era molto silenzio, che l'Inter avrebbe vinto lo Scudetto? Guarda, io sono conosciuto nell'ambiente interista come un grande ottimista e uno che ha sempre creduto in questa squadra. Io sono stato contiano della prima ora nel momento in cui c'era una parte della tifosia interista che per il passato juventino di Antonio Conte lo contestava, non era contento del nostro allenatore. Io l'ho sostituto l'anno scorso, ho ritenuto il secondo posto a un punto, un buon risultato per un Inter che veniva da annate difficili, in cui avevamo celebrato come una vittoria clamorosa, una qualificazione all'ultima giornata per la Champions, con Spalletti, prima con la Lazio e poi con l'Empoli in due anni consecutivi, quindi ero ottimista quest'anno. Quest'anno abbiamo avuto il momento di delusione massima, è stata l'eliminazione della Champions, quello è stato il momento basso. Io quella sera, ovviamente molto deluso, ma dissi ragazzi io sto con l'allenatore, sto con la dirigenza, sto con la squadra, credo nello Scudetto e in quel momento eravamo indietro. Il Milan campione d'inverno, ho continuato a crederci e poi il girone di ritorno è stata una grande volata, una volta che abbiamo vinto il derby di ritorno, abbiamo fatto il sorpasso, non ce n'è stata per nessuno. Anche perché l'Inter da quel momento in poi si è compattata, è stata un'eliminazione cocente quella del girone della Champions, ma non c'è stato poi quell'effetto che solitamente capita dell'abbattersi. Pensi a Antonio Conte, ha giocato un ruolo importante. Ecco, tu hai sempre sostenuto Conte, ma quanto c'è di Conte in questo Scudetto? Guarda, c'è tantissimo. Io ho avuto forti discussioni con alcuni follower che dicono no, ma l'allenatore conta poco, l'allenatore conta massimo il 30%. In questo Scudetto c'è tantissimo di Conte. Adesso non è matematico, dobbiamo dire il 90-95, ma c'è tanto, c'è tantissimo e non solo e non soltanto per gli aspetti tattici, il 3-5-2, la difesa 3, difesa 4, queste discussioni lasciano il tempo che trovano. La vera differenza che ha fatto Antonio Conte è nello spirito di gruppo. Noi venivamo da tantissimi anni in cui il gruppo, lo spogliatoio si spaccava, in cui c'erano voci che uscirono dagli spogliatoi, in cui c'erano mogli procuratrici di attaccanti che appena l'attaccante faceva due gol sui giornali usciva che volevano il rinnovo, volevano l'aumento, magari poco dopo aver firmato già un rinnovo di contratto. Quest'anno niente di tutto questo. Nonostante la difficoltà, noi siamo stati col Presidente Zhang lontano sette mesi e mezzo dall'Italia, quindi la proprietà lontanissima per la pandemia, sunning a seri problemi legati al governo cinese che pone le restrizioni alle aziende cinesi all'estero. In questa situazione il fatto che la squadra non si è fatta influenzare da questi problemi, gli stigioni sono stati pagati in grosso ritardo, la squadra è rimasta concentrata verso un obiettivo. A proposito di questo tema, Biagio, scusami se ti interrompo perché mi ha fatto venire in mente la questione d'attualità, vale a dire il paventato taglio degli stipendi, vale a dire c'è questo rapporto tra società e calciatori. Noi andiamo sempre con le pinze sulla questione perché ovviamente sono tutte indiscrezioni, ma è possibile una rottura effettiva tra giocatori e società su questa questione dei tagli? Perché comunque dopo un anno così sarebbe comunque un peccato. Allora che la situazione non sia facile è sicuro, del resto Marotta onestamente l'ha detto da molto tempo e io lo ripeto da molto tempo, il calcio in assoluto, non soltanto l'Inter, ha un problema di sostenibilità finanziaria. Quando una società, un'azienda spende il 70-80% dei suoi ricavi, del suo fatturato per il costo lavoro, è semplicemente un'azienda non sostenibile, non riesce a sopravvivere ed è il motivo delle grosse perdite, quindi che ci sia bisogno di un'attenzione ai costi è in dubbio, però speriamo che non ci sia mantellamento, se no ovviamente ci sarebbe rivolta della tifoseria e soprattutto speriamo che non lasci Conte. In questo momento c'è la vera grossa preoccupazione e che Conte veda che non c'è un vero progetto per la doppia stella, che è l'obiettivo che tutti i tifosi diamo e possa lasciare. Se Conte va via è un disastro totale, però io sono in ogni caso ancora fiducioso, mi ricordo che l'anno scorso, prima dell'incontro a Villa Bellini, a fine campionato, c'era grande pessimismo, tutti davano per certo Conte se ne va, Conte se ne va, ha litigato con la società, invece da quel giorno è partito il viaggio verso lo Scudetto 19. Quindi lasciamo stare le indiscrezioni dei giornali, aspettiamo un attimino di saperne qualcosa di più, non nascondiamo che il momento non è facile, ma io voglio credere che Suning trovi una soluzione. Anche perché se Suning non avesse i mezzi, vendesse, vendesse, non può prendere... Certo, ma quello comunque è una conseguenza inevitabile. Io ho sempre appoggiato Zhang, io ho appoggiato Suning, però questo è il momento in cui devono far vedere che c'è un reale attaccamento alla squadra. A proposito di reale attaccamento alla squadra, hai analizzato, Biaggio, questa vicenda che coinvolge Antonio Conte, però ti chiedo, Conte magari non sarà quello sacrificato, ma c'è possibilità che punte di diamante come Romero Lukaku, Christian Eriksen, che ha fatto comunque un ottimo gironi di ritorno, Milan-Screener, possano essere sacrificati all'insegna di questo bilancio? Beh, sai, Conte sicuramente non sarà sacrificato dalla società, sicuramente la società vuole. Il rischio è che Conte decida di andarsi, se vede che l'Inter smantella e vendiamo alcuni dei giocatori cruciali. Adesso nel... Poi scusami se ti interrompo, Biaggio, ma è successo anche alla Juventus, quando Conte chiese i giocatori, non glieli portarono e dopo un'epopea lui disse me ne vado, poi cominciò al ciclo allegriano, quindi vedremo. Lui è rimasto, si diceva lo stesso l'anno scorso e alla fine è rimasto e ci sono stati gli acquisti di Achimi, c'è stato Lukaku già dall'anno prima che è rimasto, quindi Conte ha mostrato di voler vincere con l'Inter, penso che sappia i problemi, quindi non è che si affetta una campagna acquisti da 200 milioni, ma allo stesso tempo penso che Conte si aspetti che ci sia un progetto mantenendo i giocatori chiassi, strondando ovviamente, Colarov si può vendere, Vidal si può vendere, parte delle riserve costose si possono vendere, lo stesso Pinamonti che guadagna 2 milioni l'anno e ha giocato pochi minuti si può vendere, indubbiamente, ma la squadra non va mantellata. Io penso che Conte andrebbe via se si rendesse conto che non c'è un progetto serio. I tifosi interisti vogliono, io posso anche capire che l'anno prossimo ancora non potremo competere seriamente per la Champions, posso capirlo, vedo le follie, il PSG ha appena rinnovato a 36 milioni Neymar, per me è una follia totale. Ah sì, ma quello dovremmo aprire un altro zoom, un altro discorso sulla tematica del fair play finanziario, invece adesso voglio aprire con te Biagio un altro tema sul quale in questi giorni si è tanto discusso, vale a dire i festeggiamenti in piazza dei tifosi interisti, vediamo le immagini che dopo tanto tempo si sono ritrovati a vincere uno scudetto, sono state al centro di un dibattito non soltanto sociale ma anche politico. Tu come la commenti questa vicenda, Biagio? Beh, guarda, ti dico ovviamente sono di parte, io sono personalmente estremamente attento, ho fatto praticamente 15 mesi di auto lockdown, sono uscito solo per, non ho mai visto amici, sono uscito per andare a fare space e andare in ufficio dove abbiamo protocolli di sicurezza estremamente elevati, quindi sono molto rigorosi, giovedì andrò finalmente a vaccinarmi, c'è stato sicuramente qualche eccesso, ho visto però nelle critiche eccessive tanta ipocrisia, comunque era aperto, è stato per due o tre ore, tra l'altro è una giornata molto ventosa a Milano, quindi penso che qualcosa si poteva evitare, ma sarebbe successo lo stesso in qualunque città per la vincita dello scudetto, sarebbe successo a Roma, sarebbe successo col Mila, l'unica eccezione è con la Juve perché hanno meno tifosi a Torino e perché ormai nel 99 erano sazi di vittorie, ma un Inter che non vinceva da 11 anni era assolutamente prevedibile, è stata una festa di piazza, lo vedi nelle immagini che stai mostrando, dove c'erano papà con i figli sulle spalle, moltissimi tra l'altro avevano le mascherine, una cosa all'aperto, quindi qualcosa di meglio si poteva fare, ma ritengo eccessive le critiche. Comunque io e Biagio siamo entrambi concordi che durante questa pandemia è sempre necessario rispettare le regole, il distanziamento, l'indossare la mascherina, effettuare se necessario in presenza di sintomi dei tamponi per verificare qualora non ci sia la positività al Covid-19 e noi intimiamo ovviamente il rispetto assoluto delle regole di prevenzione per il contrasto a questa pandemia. Senti Biagio, chiudiamo questo capitolo Inter parlando un po' delle bellezze che ha mostrato la squadra nerazzurra in quest'anno, tanti nomi nuovi, tante certezze tra i giocatori chi ti ha colpito di più? Ma quello che mi ha colpito di più sicuramente come ho detto prima è lo spirito di gruppo, davvero la compatibilità. Quindi tutti, se ne dovessi scegliere uno? Davvero, se devo scegliere uno chiaramente un ruolo importantissimo l'ha avuto Lukaku, Lukaku ultimamente ha segnato un po' di meno ma svolge nel gruppo un ruolo importantissimo è il terminale offensivo non soltanto per segnare ma anche come numero di Astis, l'intesa tra lui e Lautaro è fantastica, hanno avuto anche un bello scambio di Astis l'uno verso l'altro, c'è davvero un'intesa anche umana, umana notevole. La difesa, che dire, è stata davvero solidissima. Il vero cambiamento dell'Inter rispetto alle prime partite, l'Inter prendeva troppi gol, quindi il momento cruciale è stato quando Conte ha dato più equilibrio alla squadra, che prima si buttava troppo avanti, pressing estremo, ma era soggetto a debolezze difensive. Nel momento in cui ha bloccato la difesa, la squadra è iniziata a volare, quindi Skriniar, Bastoni, De Vrij, davvero fortissimi. E l'altro elemento che fortunatamente dopo il gioco di ritorno, dopo il gol al Milan in Coppa Italia, si è bloccato, Eriksen era stato l'oggetto misterioso per un anno e mezzo, e invece nel giorno di ritorno è stato praticamente sempre titolare. Altri giocatori come Barella hanno fatto un campionato, praticamente ha giocato sempre un campionato eccezionale. Achimi, ottimo acquisto quest'anno, davvero penso che abbiamo un difensore di fascia che penso resterà molti anni. Che è come se fosse un attaccante alla fine. Non è un solo giocatore, sì, non è un solo giocatore, è proprio stato un lavoro di squadra dove ognuno ha fatto la sua parte, compresi quelli che stavano in panchina, che non hanno mai fatto polemiche e quando erano chiamati a cominciare da Ranocchia o Gagliardini si sono fatti trovare pronti. Hanno forse deluso, però ci sta in un gruppo di 25 giocatori. Qualcun acquisto probabilmente sono stati sotto le aspettative Vidal e Colaro. A posteriori potremmo dire, forse potremmo evitare di comprarli, visto tra l'altro lo stipendio che gli diamo, però mi ricordo ai tempi di Mourinho, Mourinho voleva assolutamente Quaresma, poi quando venne non fece questo gran campionato. Ricordiamo Quaresma con la sua trivela Biagio. Io però cambierei pagina grazie alla regina di Emanuele Porcina perché Biagio è noto per la sua obiettività all'interno dell'universo comunicativo sportivo. Allora chiedo a lui un commetto sul Milan che ha fatto comunque un'ottima stagione grazie alle giocate di Zlatan Ibrahimovic, le parate di Gigio Donnarumma, è riuscito a diventare campione d'inverno, dopodiché è diventato un talismano quello che è il centrocampo rossonero con Ismail Ben Nasser e Frank Chessy, mentre adesso il Milan si appresta a tornare in Champions League. Biagio, che ne pensi della stagione rossonera? Io penso che lo meriti, io penso che lo meriti. Del resto se il Milan non si qualificasse sarebbe la prima volta che una squadra campione d'inverno, poi non arriva nelle prime quattro, sarebbe clamoroso. Tra l'altro ho buon rispetto per Pioli, che è stato anche nostro allenatore, bravissima persona. Quindi io auguro al Milan, nonostante siano i nostri cugini, di andare in Champions, anche perché non ho dubbi, e l'ho espresso chiaramente sui social prima di Juventus-Milan, dovendo fare una scelta, non ho alcun dubbio che il nostro avversario storico è la Juventus, per un interista, tranne forse quelli di Milano che vivono più il clima derby, ma per tutti il resto di interisti in giro per l'Italia il vero avversario è la Juventus, e noi il nostro vero sogno è andare sabato alle 18 all'Allian Stadium e buttarli fuori dalla Champions. Parliamo un po' di Juventus, Biagio, perché, immaginavo, d'altronde però la tua comunicazione è sempre stata obiettiva e all'interno del dibattito sulla Juventus, prima di passare poi all'analisi degli allenatori, volevo chiederti, te l'aspettavi una stagione così di basso livello dei bianconeri, perché comunque usciti col porto in Champions League, vedremo cosa accadrà in finale di Coppa Italia, ma soprattutto in campionato non si chiedeva la Juve di vincere il decimo, perché sarebbe stato comunque difficile, ma quantomeno fare un campionato all'altezza del nome Juventus, tu cosa ne pensi, Biagio? No, io non me l'aspettavo assolutamente, io ero convinto che noi avremmo potuto vincere lo Scudetto, ma combattendo fino all'ultima giornata per lo Scudetto, io pensavo che Juventus-Milan di sabato sarebbe stata davvero uno spareggio Scudetto, la Juve che veniva da nove anni consecutivi, che voleva vincere il decimo, che comunque ha una rosa, ragazzi, ottima, Krusevski, ottimo acquisto, Chiesa, ottimo acquisto, hanno Ronaldo, una difesa solida, quindi secondo me la Juve era insieme a noi i favoriti per lo Scudetto, mai mi sarei aspettato che rischiassi addirittura di stare fuori dalla zona Champions, secondo me sarebbe la vera clamorosa sorpresa di questo campionato e lato allenatori questo porta alla grande delusione di Pirlo, sicuramente. Eh, apriamolo il tema Pirlo, perché un allenatore catapultato all'interno di un universo non noto a livello di allenatore, perché il calciatore non si è mai discusso per classe ed eleganza, mi ricorda un po' Biagio l'esperimento che provò il Milan con Pippo Inzaghi, che poi ebbe la sua strada, tuttora allenatore del Benevento, gli azzardi sono così, o ti vanno bene o ti vanno molto male? No, ma io la vedo, guarda, ancora peggio di quella di Inzaghi, perché Inzaghi era allenatore della primavera e faceva molto bene con la primavera, l'abbiamo avuto anche noi il caso di Stramaccioni, che dopo la primavera ha preso l'Inter, non andò molto bene quell'anno, però ogni tanto capita che l'allenatore della primavera ti va molto bene, ti fa vedere un bel gioco e la squadra, la presidenza prende il rischio. Qui è stato messo un allenatore che non aveva mai allenato, mai, cioè neanche i ragazzini dell'oratorio, non aveva mai allenato e tu il primo giorno che allena gli dai la squadra che ha vinto nove scudetti, ha detto obbligatore che non sia una persona che mi sia particolarmente simpatica, però ha detto un'espressione giusta è come dare una Ferrari nuova di zecca a uno che ha il foglio rosa, non ha neanche la patente, è stato un rischio, un grosso azzardo, si sono fidati che sarebbe bastato il parco giocatori che c'era, l'aver vinto gli anni precedenti, nel calcio non funziona così. Come giudichi invece la stagione di Pioli? Ricordiamo uno dei passaggi di Stefano Pioli nella sua carriera, non soltanto legata al mondo del Milan, è stato anche quello dell'Inter, quello della Lazio, ma non solo, come giudichi la sua stagione? Ripeto, io giudico Pioli un'ottima persona, ho avuto modo di conoscerlo quando era all'Inter, l'ho incontrato un paio di volte e ha fatto davvero l'impressione di una brava persona, si è compratto bene quando è stato con noi, ovviamente i risultati sono stati alterni, un po' discontinuo, aveva iniziato tra l'altro molto bene con una serie di vittorie, però poi ha avuto un girone di ritorno e un finale di campionato estremamente negativo. Quindi personalmente mi fa piacere per lui che abbia buoni risultati con il Milan, probabilmente i milanisti si erano un po' esaltati, più all is on fire dopo il girone di andata, campione d'inverno, però ripeto, io penso che il Milan meriti di andare in Champions, per quello che hanno fatto non solo quest'anno, ma anche l'anno scorso, ti ricorderai sicuramente che l'anno scorso dopo la pandemia sono stata la squadra che ha fatto più punti nel 2020, quindi hanno avuto una continuità di due anni, penso che meritino di andare in Champions. Assolutamente, anche perché il Milan post lockdown, ti ricordi Biagio quando si parlava di Ragnic sulla panchina dei rossoneri, poi alla fine hanno fatto bene a prendere Pioli? Penso che l'Idin abbia fatto bene a tenere alla fine Pioli, sembrava ormai licenziato, sembrava licenziato, e poi hanno cambiato proprio per i buoni risultati del 2020, in cui era arrivato praticamente imbattuto dopo la pandemia, hanno cambiato, ripeto, penso che il Milan abbia fatto un buon campionato, adesso la vittoria 3-0 a Torino è stata clamorosa, tra l'altro li pone addirittura in vantaggio nello scontro diretto, cosa che nessuno sarebbe immaginato di Juventus-Milan. A questo punto il Milan, se vince le prossime due, va all'ultima di campionato a Bergamo, già qualificata per la Champions, perché le basta mantenere i tre punti di vantaggio e poi anche se viene acchiappata dalla Juve l'ultima giornata, ha lo scontro diretto a favore, quindi ce la può fare. Andremo a vedere. In questa corsa per la Champions è coinvolto anche il Napoli, il Napoli di Gennaro Gattuso, che con l'Atalanta si sta giocando quello che è il secondo posto, un Napoli che ha fatto comunque una buona stagione a livello sia di gioco sia di risultati. Come la commenti la stagione del Napoli, viaggio? Beh, il Napoli, Gattuso è un altro buon allenatore che ci mette l'anima, ha un rapporto non sempre semplicissimo con De Laurentiis, che non è un presidente facile, e lo si è visto, anche se devo dire che è bravo a gestire i conti, probabilmente è uno delle squadre con meno debiti nei confronti delle altre, però il rapporto tra presidenti e allenatore non è sempre stato idilliaco, ma penso che abbia fatto un buon campionato. È un vero peccato il quasi suicidio che hanno fatto con il Cagliari quando sono fatti pareggiare al 94. e io auguro al Napoli che quei due punti persi con il Cagliari non siano decisivi. Se lo sbaglio gioca stasera con l'Udinese, è fondamentale che il Napoli deve vincere tutte quante a questo punto, dopo il pareggio che ha fatto con l'Udinese, però vincendole tutte può farcela. Ha giocato con l'Udinese, esattamente. Caro Biagio, adesso chiudiamo la questione della lotta alla Champions, parlando di due squadre, una non direttamente coinvolta, l'altra invece sì, partiamo dalla prima, della Roma, adesso vedremo alcune immagini dei giocatori della Roma che si allenano e vedremo appunto l'immagine di Paolo Fonseca, perché adesso per la Roma si chiude una parentesi e se ne apre un'altra Biagio, di una persona che tu conosci, ovviamente parliamo di Giuseppe Murigno. Eh sì, chiaramente è stata la notizia che ha nei giorni, tra l'altro intorno ai giorni dello Scudetto, di cui si è parlato tantissimo e anche come puoi immaginare sui social interisti, sui miei canali e moltissimi commenti dei follower. Io il primo commento che ho fatto è stato di augurare a Osei, di cui saremo grati eternamente per il triplete, che è proprio una pietra miliare nella storia interista, gli auguriamo ogni bene alla Roma, gli auguriamo il secondo posto, ovviamente quando verrà contro di noi sarà l'avversario e noi sosterremo Conte tutta la vita. E certo, comunque l'analisi obiettiva di Biagio viene sempre coinvolta in quello che è il suo tipo, il suo modo di vivere, che però è un modo di vivere molto obiettivo, perché spieghiamo un po' ai telespettatori i principi che fondano il tuo canale YouTube e tutti i tuoi canali social. Sì, sono abbastanza particolari. In questo momento quello che sta volando di più è il canale Instagram, tra l'altro chi è interessato è biapri.58. E vanta 20.000 followers circa, giusto? Sì, circa. E il 58 è il mio anno di nascita. E una delle cose che mi fa più piacere è che tra le migliaia e migliaia di follower la gran maggioranza sono ragazzi giovani, quindi sono molto contento che i soci riescono ad abbattere la barriera generazionale, per cui tanti ragazzi di 15, 20, 25, 30 anni, regolano una persona che è over 60, che non è sempre facile nella società di oggi. Invece alla fine il linguaggio del calcio unisce. E ai miei canali ho scelto di dare tre punti che sono tra l'altro molto legati a me. Uno, passione. Il calcio va vissuto con passione, io lo vivo con immensa passione. Prima della pandemia, pur vivendo a Roma, nei quattro anni precedenti avevo fatto 160 trasferte, quindi una media di 40 trasferte l'anno con un picco di 50 trasferte nel 2019. E tieni conto che tranne Lazio-Inter, Roma-Inter per me è sempre trasferta, sono abbonato al mio altro. Quindi passione infinita per l'Inter. Elemento numero uno. Elemento numero due, rispetto per gli avversari. Sui miei canali non esiste l'insulta agli avversari. Io contesto anche la mia curva, la curva nord, quando fanno coli discriminatori verso il Napoli o verso altre tiposerie. E' bello lo sfottò, io faccio molti sfottò contro la Juventus, ma questo non deve mai scadere nella volgarità, nella mancanza di rispetto, nella mancanza di rispetto, anche nei confronti del Milan. Vedo Cori, Milan e Brei, io proprio non sopporto questo. Ripudiamo e ovviamente ripudiamo tutto ciò. Il rifiuto totale, quindi infatti mi fa molto piacere che tra i migliaia di follower ci sono anche i tifosi di altre squadre, la gran maggioranza sono interisti, ma molti sono di altre squadre. E tra l'altro la cosa che mi fa anche piacere è che il 25% dei miei follower non è dall'Italia, ma sono interisti che vivono dal mondo, in oltre 50 nazioni. Vero, da tutto il mondo. Da gli Uniti, all'Africa, Marocco, Egitto, Algeria, all'Indonesia, che è la seconda nazione dopo l'Italia, e così via, un po' da tutte le parti ed è in linea con lo spirito interista a Brados of the World. E il terzo elemento, quindi passione, rispetto e il terzo un sorriso. Ricordiamoci sempre che è un gioco, dobbiamo divertirci, non muore nessuno, non drammatizziamo, viviamolo con passione, ma sempre con un sorriso, perché è un grande gioco. Non dobbiamo mai diventare gioco. Ti piaccio, visto che siamo quasi in chiusura, un augurio per il mondo del calcio, per quello che sarà la prossima stagione, un tuo pensiero sul futuro del mondo del pallone. Guarda, il mio grosso augurio è che l'anno prossimo, il 21-22, sia quello del ritorno allo stadio. Tra l'altro ti raccontavo, prima della trasmissione, che ieri per me è stato un giorno importante, io per 15 mesi sono sempre stato a casa, ieri c'era a Roma e una partita particolare, io seguo pure il femminile, cerco di sostenerlo molto, perché credo moltissimo nella parità di genere, uomo-donna, e ieri c'erano i quarti di finale, di primavera femminile, Lazio femminile, inter femminile, io sono andato, pensando di non entrare, perché porte chiuse, per salutare l'allenatore che conosco, Sebastian Della Fuente, è stato l'allenatore delle promozioni in Serie A della prima squadra, invece, essendo un campetto abbastanza di periferia, alla fine si poteva entrare, sono stato a vedere la partita e dopo 15 mesi ho rifatto un video, ho rifatto il servizio fotografico alle ragazze, a fine partita sono andato a salutare l'allenatore e le nostre ragazze ed è stato come un rivivere, dopo 15 mesi lontano dai campi, io quindi spero che la prossima stagione possa permettere a tutti i tifosi di tornare allo stadio, perché sarebbe un segno di ritorno alla normalità di cui tutti noi abbiamo bisogno e penso ci meritiamo. Lo speriamo assolutamente, io ringrazio Biagio Privitera, Inarte Biapri, grazie Biagio, a presto. È stato un piacere, ciao Tommaso. Così come ringrazio tutti voi, cari telespettatori, ringrazio Emanuele Forcina in cabina di regia, finisce qui l'appuntamento con 264 Zoom, ma la programmazione di Cusano Italia TV continua. Grazie e a presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.